L'inizio a me andava bene, era lei che si toglieva la mascherina. Ma io per parlare, ma posso togliermi la mascherina mentre parlo? Ma qua si faceva una foto, guardi qua, era solo per farsi una foto. Eh, posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No. No? E se non sta un metro e mezzo no. Eh, allora, mi fate vedere le foto di Piazza del Popolo che ci sono state sabato? Mi fa vedere la foto di Piazza del Popolo sabato? Sì, se trovate anche o Zingaretti o Conte che si toglieva la mascherina. No, ma non ce l'ho con Zingaretti. No, con lei ce l'avevano, non con i manifestanti.